Perché una società vada bene? Si muova nel progresso, nell'esaltazione dei valori della famiglia, dello spirito, del bene, dell'amicizia. Perché prosperi senza contrasti tra i vari consociati, per avviarsi serena nel cammino verso un domani migliore. Basta che ognuno faccia il proprio dovere. Eccoci qui per una nuova pillola del Coraggio di ogni giorno. Il 30 giugno e il primo luglio abbiamo vissuto l'edizione 2022 del Perdono del Gargano. Tra gli ospiti di questa edizione c'era anche Matteo Faustini, cantatore, protagonista del Festival di Sanremo del 2020, tra le nuove proposte con il suo singolo Nel bene e nel male, ha portato a Monte Sant'Angelo la sua testimonianza il 30 luglio, raccontando anche quella che è stata la sua esperienza alle scuole medie quando era vittima di bullismo. Matteo Faustini poi si è esibito a San Giovanni Rotondo il giorno seguente, il primo luglio, dove ha presentato anche il suo nuovo singolo Tre livelli, uscito appunto per l'occasione. Lui dice nelle sue canzoni il dolore è un acceleratore di esperienza. Per questo abbiamo voluto chiedere a lui, che ha vissuto sulla propria pelle, il tema del bullismo. Qual è stato il coraggio che ha avuto in quelle circostanze e qual è il consiglio che si sente di dare soprattutto a chi oggi è vittima di bullismo? Queste le sue parole. Il consiglio che mi sento di dare è che ogni giorno potrebbe essere l'ultimo e quindi se abbiamo bisogno di dire qualcosa è giusto dirla. Ditela, dite come state, vomitate il disagio che avete dentro perché se lo tenete dentro vi uccide, piano piano ogni giorno vi consuma. Quindi provate veramente a dire a chiunque ma anche solo a voi stessi davanti allo specchio cosa vi fa stare male perché è il primo passo. Poi il secondo passo è l'accettazione e poi combattere, cercare di modificare di come fare. Ci sono tanti modi secondo me. Il primo è quello di parlarne con altri esseri umani, che possono essere amici di cui vi fidate, parenti, genitori e persone più adulte e cercare di capire cos'è veramente importante in questa vita. Chiedetevi veramente cos'è che è importante. Secondo me è essere delle brave persone, cercare di lasciare qualcosa che parli per noi quando non ci saremo più, semplicemente delle nostre scelte, quale sono immortali. Quindi cercate di fare la scelta che vi rende migliore e spesso quella scelta è la più difficile e vi fa soffrire ed è quello di cui avete più paura. Però secondo me veramente la vita è una, ogni giorno potrebbe essere l'ultimo. Cosa state aspettando? Provate ad ascoltarvi e non solo a sentirvi ma ascoltare quello che sono anche le vostre paure. Cercate di abbracciare anche quelle perché lì dentro c'è un sacco di bellezza alla fine. Quando riuscite ad ascoltare le paure, a volte le paure vogliono solo essere abbracciate. Quindi cercate di capirvi, di giustificarvi, di non colpevolizzarvi, non c'è nessuno che vi giudica. Forse solo voi stessi a volte. Quindi di solito chi è la vera vittima di bullismo alla fine spesso è chi fa il bullo perché a lungo andare tiene dentro di sé un giudizio, una cattiveria ingiustificata che non portano a nient'altro se non a un corrodersi dentro. E grazie a Matteo Faustini, a chi con la musica, con le parole delle sue canzoni è testimonianza vivente di quel coraggio di ogni giorno anche su temi importanti come quello del bullismo. Grazie per essere stati con noi e appuntamento alla prossima pillola del coraggio di ogni giorno. Credo ancora profondamente nel lavoro che faccio. So che è necessario che lo faccia, so che è necessario che lo facciano tanti altri assieme a me e so anche che tutti noi abbiamo il dovere morale di continuare a fare senza lasciarci condizionare.